Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, eccoci qua. Allora, Pagelle, Salernitana, Juventus, Salernitana 0, Juventus 3, si potrebbe anche dire Salernitana 0 e Serbia 3, perché la doppietta di Vlaovic, il gol di Kostis su assist proprio di Vlaovic, ci fanno capire che la Juve è in serbo qualcosa, dai permettetemi questa bruttissima battuta. Iniziamo subito, lasciamo da parte queste stupidaggini, sono contento di una cosa però, oggi sono sereno, ma ero sereno anche ieri prima della partita, riesco a respirare quella voglia di parlare di calcio, probabilmente perché giovedì non questo, quindi non domani, ma il prossimo riuscirò anche ad andare allo stadio, e quindi inizio ad avere un po' di sensazioni più positive addosso, proprio perché so che vivrò una giornata differente e spero che si veda anche dai video perché mi sento molto più leggero io stesso in primis, ci voleva. Allora, guardate anche questo video, perché se l'avete già visto, bravi, vi siete meritati una caramella, se non l'avete ancora visto invece andatevelo a vedere, se volete mettete in pausa questo e guardate quell'altro, perché ci saranno alcuni spunti di riflessioni importanti all'interno di quel video che verranno riproposti anche in questo, come per dire il voto di Allegri e soprattutto il voto di Vlaovic. Dato che Allegri è il primo, direi di iniziare, siccome Allegri si merita 7. Fermo subito perché la contestazione principale sarà la seguente, Emma era solo serenitana, sì, lo so, l'ho già detto più volte, ma la Juve ha fornito una prestazione differente, l'avversario era quello, sicuramente non era un avversario di livello, sicuramente non bisogna esaltarsi, sicuramente non va presa la partita ieri come modello, come riferimento di quello che è la Juventus, perché la Juventus in questa stagione non è stata quasi mai quello che abbiamo visto ieri sera, ma ieri abbiamo visto una squadra che è stata messa bene in campo, in prima battuta, pressava alta, giocava alta e difendeva alta, giocava in avanti e giocava in verticale sull'attaccante. Una squadra messa giù in questo modo, che abbiamo visto raramente all'interno di questa stagione, con l'allenatore che chiedeva concentrazione, chiedeva di aumentare i giro e il motore, di aumentare i ritmi, che sono stati comunque blandi, ma l'impostazione tattica della Juventus è stata di successo. Una squadra che è riuscita quindi a creare anche tante occasioni da gol, come dicevo nel video precedente, ben 14, con 6 volte Vlaovic che è andato alla conclusione. Sono tutti dati abbastanza bizzarri per la Juve, per me è stata molto più di successo questa partita rispetto a quella con l'Alessio di Coppa Italia, nel video precedente spiego anche bene o male perché, poi certo ce la prende in considerazione il livello degli avversari, questo indubbiamente. Ma la Juventus la sua partita l'ha fatta, non è stata una partita che la Juventus ha vinto per inerzia perché gli altri hanno fatto poco e la Juventus ha fatto poco di più. Per me quella con l'Alessio è stata una sorta di partita di questo tipo. Ieri 6 invece la Juventus ha messo in campo tutto quello che doveva mettere in campo per fare una prestazione di un certo livello e prepararsi al meglio alla partita contro la Fiorentina. Quindi per me l'allenatore merita il voto 7 in pagella. Scesni voto 6 perché comunque la Salernitana ha avuto due occasioni pericolose, una che è uscita a destra di Scesni, una che è uscita a sinistra di Scesni, in quel tiro di Bonazzoli. Quasi mai lo specchio della porta è stato centrato da parte della Salernitana, quasi mai i guanti di Scesni sono stati sporcati appunto dai palloni calciati dagli avversari. 6 in mezzo ad Alexandro, siccome è buona prestazione ieri di Alexandro, solida prestazione di Alexandro. Credo che poi Alexandro vada anche un pochino contestualizzato a Danilo e lo vedremo dopo perché per quanto mi riguarda Alexandro in questo ruolo, che non è che mi esalti più di tanto, però si vede che è molto più a suo agio rispetto a giocare esterno e quindi dover spingere sulla fascia, mi sembra meno appariscente, mi sembra molto più solido, molto più concreto, molto più pragmatico rispetto a Danilo che poi vedremo dopo. Però ieri oggettivamente Alexandro ha fatto ben pochi errori, si merita 6 e mezzo. 6 e mezzo pure per Bremer che forse dei tre è stato quello un pochino più indietro della difesa, però penso che anche la prestazione di Bremer sia stata una buona prestazione, i tre difensori brasiliani titolari ormai è diventata una sorta di certezza per la Juventus, passatemi il termine, era la difesa titolare delle otto vittorie consecutive senza prendere gol, è comunque la difesa titolare della Juventus anche adesso che si balla molto più rispetto a prima. 7 a Danilo perché dicevo prima, Alexandro è un giocatore, sì, solido, concreto, ma Danilo ti fa vedere anche delle cose fatte bene, delle uscite tecniche da dietro, dei palleggi, dei dribbling, delle palle giocate in avanti, delle impostazioni di un certo tipo anche a partire dalla difesa, quindi Danilo veramente è un po' il segreto di questa Juventus, giocatore duttile, intelligente, un giocatore anche di cuore che non guasta mai, quindi è il vero capitano di questa Juve. Fa riflettere perché all'andata c'era Leonardo Bonucci e Bonucci era ovviamente capitano perché è il capitano di questa Juventus e andò a battere il rigore, il rigore che poi aveva sbagliato e che poi ha infilato di ribattuta, sforbiciata. Il rigore che voleva battere Vlaovic, Allegri ha preferito farlo battere a Bonucci e quanto cambiano il calcio dall'andata al ritorno anche se non è calendario speculare perché ora il capitano non è Bonucci perché Bonucci non sta giocando per via di qualche problema e Danilo, ma in senso figurato Danilo sembra sempre più capitano di questa Juve e Rigorieri se l'è battuto Vlaovic tranquillamente chiedendo anche il pallone di Maria con Di Maria che va a dargli il pallone. Quindi una Juve sicuramente diversa rispetto a quella che abbiamo visto all'andata contro la Serenitana anche per queste piccole cose che tanto piccole poi non sono. 5,5 da De Sciglio. Allora, questa è la prima insufficienza e vi dico che è anche l'unica insufficienza di titolare ma ci sarà un altro giocatore che ha preso comunque 5,5. Qualcuno potrebbe dirmi ma perché 5,5 da De Sciglio? La prima domanda che mi sono fatto nel cercare di dare una valutazione a De Sciglio è stata quali ricordi ho della partita di De Sciglio? Perché a un certo punto di vista mi è sembrato di non vederlo mai toccare il pallone e allora sono andato a scovare qualche dato. E leggo De Sciglio 41 palloni toccati in 80 minuti. Quadrado 32 palloni toccati in 28 minuti. E già questo è un dato che urla veramente tanto. Cioè è un dato di un certo tipo, di un certo impatto. Però loro ho pensato andiamo a controllare anche Kostic perché ovviamente sono i due che hanno giocato titolari e Kostic ha toccato meno palloni di De Sciglio. Ha toccato 30 palloni contro il 41 di De Sciglio. Però c'è anche da sottolineare che De Sciglio appunto ha giocato 80 minuti, Kostic 62 e poi è stato sostituito. All'interno di questi 62 minuti comunque Kostic ha messo a referto un gol e ha recuperato 6 palloni anche dentro la gara contro gli 0 recuperati da De Sciglio che ha pure perso un paio di palle. Quindi sicuramente prestazione un po' rivedibile ma aggiungo io che questa è una cosa che avevo notato già ieri in presa diretta e poi anche i dati mi hanno confermato questa cosa mi è sembrato di vedere un De Sciglio sempre più cauto, sempre più basso, sempre più verso il suo portiere anche in una squadra che comunque ieri ha mantenuto un baricentro abbastanza alto come dicevamo prima. Perché? Punto di domanda. La prima cosa che mi viene da dire è una condizione fisica non all'altezza. Giocatore che rientra da un infortunio, un lungo stop e quindi in questo momento non ne ha così tanto. Seconda battuta, seconda risposta che mi do è anche il ruolo perché ieri poi ad Azzon gli hanno fatto la domanda gli hanno detto ma tu preferisci la difesa 3 o la difesa 4? Lui ha fatto capire che bene o male ti preferisci la 4 ma comunque anche nella 3 ci ha già giocato con Allegri, con Conte in passato, gli è successo e quindi gli va bene pure la difesa 3. Per me dà la sensazione e l'impressione di non essere un giocatore adatto a quel ruolo. Poi questo abbiamo e questo dobbiamo tenerci a questo punto dato che c'è stato anche un nodo di contratto però il giocatore oggi non mi sembra ancora recuperato appieno dall'infortunio proprio dal punto di vista fisico e questa tendenza ad abbassarsi probabilmente deriva anche da lì e secondo me nella partita non c'è stato chissà che cosa quindi secondo me De Sciglio non arriva alla sufficienza non di tanto, non è stata una partita terribile però non è stata nemmeno una partita secondo me di successo. 6 e mezzo 6 e mezzo invece a Miretti Miretti si procura il calcio di rigore Miretti che è comunque all'interno dell'azione viva, assolutamente viva e poi si fa male si fa male, oggi esami strumentali, vedremo per quanto ne avrà io temo un lungo stop a questo punto quindi un grosso in bocca al lupo un abbraccio a Mire che se ci fa sbloccare la partita anzi, se si sblocca la partita è merito suo e di Di Maria e di Vlaovic, quindi un gol costruito in tre quindi un gol di squadra, assolutamente in bocca al lupo, caro, in bocca al lupo 6 e mezzo anche a Locatelli Locatelli, anche la partita di ieri secondo me è stata meno appariscente rispetto a quella della Lazio però la partita di ieri mi ha fatto anche proprio dire Locatelli non ha fatto niente di che ha fatto la sua partita a supporto della difesa davanti appunto alla difesa vertice basso del centrocampo qualche pallone gestito in maniera ottima qualche passaggio sbagliato che ci sta il gol sbagliato se vogliamo alla fine del primo tempo ma non è una prestazione alla Pirlo non è una prestazione alla Sergi Busquets non è una prestazione alla Casimiro non sono quelle prestazioni lì non sono quei giocatori lì che ti fanno stropicciare gli occhi e dici wow sono prestazioni comunque normali, ottime, buonissime, solide, compatte ma sono prestazioni normali Locatelli che si guadagna il 6,5 che secondo me è la valutazione giusta perché è stata una buona partita di Locatelli ma non c'è mai o quasi mai quel wow incredibile quello magari l'avevamo avuto in alcune occasioni con la Lazio secondo me ha giocato anche molto bene e allora mi fa venire in mente Paredes perché davvero Locatelli fa il suo fa il suo senza strafare ma è possibile davvero che Paredes non riesca a arrivare nemmeno a questo livello qui perché secondo me Paredes ha delle capacità tecniche maggiori anche rispetto a Locatelli maggiori ieri fastidio la zampa d'occa non è convocato bla 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 ma se io penso a Locatelli e a Paredes di questa stagione uno Locatelli sta giocando secondo me su buoni livelli non ottimi non eccellenti ma buoni l'altro Paredes sta giocando assolutamente sottolivellato rispetto alle sue qualità e le sue caratteristiche è possibile che non sia in grado di fornire una prestazione di questo tipo come quella di Locatelli dove non c'è chissà che cosa ma è concreto mi fa veramente mi fa veramente arrabbiare questa cosa mi fa veramente arrabbiare voto sei arrabbio che rischia qualcosina rischia qualcosina perché prende il primo giallo intervento simile a quello di Mele contro il Sassuolo che costa il cartellino rosso ma per via di un richiamo al VAR abbastanza ambiguo per quanto mi riguarda secondo me è giusta la lettura del giallo come era avvenuta anche appunto per Mele poi è stato fatto un po' di confusione il secondo giallo secondo me non c'è però ovviamente poi l'irrabbiare inizia a rischiare l'infortunio di Miretti limita e non poco i centrocampisti a disposizione di Max Allegri tenendo conto che Pogba è ancora infortunato Miretti si è fatto male Paredes appunto ieri non era convocato l'accessione di McKennie siamo arrivati ad avere sei centrocampisti adesso ne abbiamo tre vediamo quando recupereranno Pogba e Paredes spero già per la Fiorentina o comunque per il Nant incrociamo le dita perché Miretti ho paura che per un po' non lo vedremo non era possibile fare il cambio poi il rabbio si gestisce e fa una partita secondo me da sei in pagella sei mezzo a Kostic che come vi dicevo prima è stato abbastanza invisibile anche lui tra virgolette perché la Juve è andata sempre meno sugli esterni è sempre più centrale secondo me questa è anche una chiave di lettura della partita differente che ha fatto la Juventus in verticale andando a passare anche dal centrocampo rispetto agli esterni come facciamo di solito però Kostic poi ha il merito ha il merito di farsi trovare lì in occasione del 2-0 che non è quello che chiude la partita ma ci mette veramente un punto un punto fatto bene con la penna di quelli che non vengono via e poi Vlaovic ci mette il punto esclamativo sopra mette la barra per concludere definitivamente i giochi anche se in realtà si poteva fare anche qualche gol in più quindi non partita assurda era parte di Kostic però nell'arco delle ultime due partite un gol e un assist e finalmente perché Kostic post mondiale mi era sembrato sempre più invisibile anche adesso non mi sembra così appariscente con la last mi era piaciuto ieri un po' meno però poi alla fine guarda il tabellino il gol di Kostic è pesante non poco volto a 7.30 invece a Vlaovic anche qua vi ripeto andatevi a vedere l'altro video che ho pubblicato questa mattina presto intorno alle 7 perché spiega cerca almeno cerca di spiegare bene qual è stata la mossa la differenza che ha reso Vlaovic Vlaovic perché tante volte quest'anno lo vedevamo lì isolato spalla alla porta abbandonato a se stesso ieri sera invece c'è stato qualcosa di differente un Vlaovic che comunque riesce anche per via dei suoi mezzi fisici e probabilmente atletici in questo momento in pieno recupero l'altro giorno Allegri diceva molto più leggero nella corsa molto più tranquillo ieri è sembrata davvero confermata questa cosa bisogna dare continuità già a partire la prossima partita con la Fiorentina dove lui è l'ex però un Vlaovic ieri straripante dominante che faceva reparto da solo due gole un assist e altre due occasioni che poteva tranquillamente infilare quindi 7.30 a Vlaovic che è il vero MVP di questa partita 6.30 di Maria dipinge calcio la cosa che mi fa veramente non so se sorridere o preoccupare in realtà devo dirvi la verità è vedere di Maria con questi ritmi che non sono elevati sono ritmi blandi quelli del campionato italiano non di tutte le squadre ma della maggior parte sono ritmi blandi nei quali di Maria si esalta e ti fa capire che in questo campionato è sufficiente fra molte virgolette sufficiente ma è sufficiente una tecnica di base elevata come quella di Maria che è praticamente sconfinata infinita uno dei giocatori veramente più tecnici che io ricordo in maglia Juve però quella senza ritmo è sufficiente è sufficiente questa cosa mi fa un po' preoccupare perché ieri sera di Maria dato al piccolo piccolissimo trotto mi ha fatto vedere della roba incredibile quella traversa poi ancora lì che grida vendetta perché il 4-0 di Maria probabilmente ci stava di Maria da fermo Timbuca Di Maria è uno dei pochi giocatori che ha la giocata in verticale a cercare Vlaovic sulla profondità Di Maria è probabilmente il compagno più adatto per Vlaovic nel 3-5-2 e allora poi c'è un punto interrogativo legato a Federico Chiesa e qua torniamo all'interno del discorso che ho già fatto mille volte e allora bisogna cercare di capire come incastalarli tutti e tre insieme perché se no siamo sempre lì a dire questo e quest'altro quest'altro questo non gioca questo poi entra questo titolare questo qua non gioca questo ha 60 minuti bisogna capire bisogna capire perché il potenziale della Juventus lì davanti secondo me è molto elevato 6-5 a Fagioli che entra al posto di Miretti e qua secondo me si apre una discussione interessante perché ieri abbiamo visto un confronto tra Miretti Nicolussi Caviglia e Fagioli tre giocatori che fanno parte hanno fatto parte della cantera della Juventus della primavera della Juventus giocatori del vivaio Juve tre percorsi differenti quello di Nicolussi Caviglia un po' più tortuoso e complicato per via degli infortuni è arrivato ora in Serie A si vede secondo me che è un giocatore con delle caratteristiche importanti ma ancora non pronto non adatto probabilmente a questo livello ma gioca in Serie A da due settimane tre settimane un mese quant'è anche ieri sera Nicolás è stato perfetto nel post partita a difendere il ragazzo e cercare di isolarlo da parte di queste critiche che sicuramente devono esserci devono essere pesanti perché la partita Nicolussi Caviglia l'ha risolta a favore della Juventus e questo non può essere assolutamente un vanto per un giocatore di Serie A assolutamente no però abbiamo visto un giocatore come Nicolussi Caviglia un giocatore come Miretti che sta bruciando le tappe e ha la sua prima vera stagione in Serie A con la maglia della Juventus classe 2003 e un giocatore come Fagioli che è incredibilmente più pronto di quegli altri tante volte noi parliamo dei giovani e facciamo l'elenco dei nomi poi però è il campo che ti fa capire e di sera io ho visto una scala gerarchica importante con Nicolussi Caviglia vertice molto basso Miretti nel mezzo perché sta diventando giocatore e Fagioli che lui è già Fagioli è già un giocatore Fagioli è già un giocatore mi dà una tranquillità dentro il campo quando va a prendere quel pallone quando va a gestire quel pallone che è da un pezzo che non avevo lo dicevo ieri sera in live qualcuno mi ha detto è da Pjanic probabilmente che non abbiamo quella tranquillità in mezzo al campo probabilmente sì probabilmente è davvero dai tempi di Pjanic che non sono così tranquillo quando il pallone passa dai piedi di un centrocampista e vedere ieri sera Fagioli e Vlaovic esultare insieme classe 2001 1 contro classe 2000 quindi giocatori che sono comunque quasi coitanei ma immaginarmi che Vlaovic un anno fa arrivava alla Juventus per 80 milioni di euro mentre Fagioli giocava in serie B e c'erano status differenti ed erano status differenti anche quest'estate quando Fagioli l'ultimo giorno di mercato rimane alla Juventus nello stupore eravano tutti felicissimi e viva è rimasto Fagioli cerchiamo di valorizzarlo maggior ragione se ci diamo Zaccaria se ci diamo Zaccaria allora devi valorizzare Fagioli era quella la nostra speranza ma Vlaovic aveva ancora uno status differente Fagioli ha ancora uno status differente uno verso l'alto uno verso il basso oggi li vedi esultare insieme li vedi insieme in foto e pensi quel gap che pensavi potesse esserci oggi si è ridotto si è ridotto perché Fagioli ha scalato le gerarchie è diventato un giocatore vero un giocatore che consideri titolare della Juventus del centrocampo della Juventus al pari di Ujan Vlaovic come attacco è fantastico secondo me tutto ciò è fantastico è bellissimo all'interno di questa stagione tortuosa complicata difficile bruttissima questa è la luce più luminosa che abbiamo fino a questo punto perché poi magari ne arriva anche un altro che non so scoppia Sule Ealing Junior diventa il titolare può succedere di tutto il rientro di chiesa e la nascita di una piccola stella di una young star lato Juventus come Niccolò Fagioli sono i due punti a cui dobbiamo aggrapparci per ripartire due punti fermi della Juve del futuro 5 e mezzo appunto a chiesa però purtroppo perché ieri non mi è piaciuto come è entrato poi l'unica vera giocata che ha fatto davvero l'ha fatta e ha messo in porta Ken Ken ha preso il palo però tanti errori da parte di chiesa forse anche un po' appesantito mi è sembrato forse ha fatto dei lavori specifici sapendo di non giocare gli hanno fatto fare dei lavori di un certo tipo o semplicemente non era serata non ne ho idea però non mi è piaciuto l'impatto di chiesa non mi è piaciuto 6 invece a Quadrado che quando è entrato secondo me ha fatto discretamente bene ha fatto il suo Quadrado ovviamente non ha più lo spunto di un tempo però è un giocatore che per la Juve in questo momento è importante proprio perché come dicevamo prima l'alternativa è De Sciglio Quadrado è il titolare tra titolare e riserva non sono tranquillo e sicuramente sarà uno dei punti sulla quale la Juventus dovrà interrogarsi nella prossima campagna acquisti senza voto Ken senza voto Inning anche se Ken in realtà ha avuto addirittura la possibilità di segnare il gol del 4-0 un palo su un bel tiro di Ken che comunque è entrato con un buon piglio peccato peccato perché il risultato non è riuscito ad essere più rotondo un 3-0 ce lo portiamo a casa volentieri un 4-0 sarebbe stato ancora più gradito e queste ragazzi sono le pagelle di Juventus anzi di Salernetana Juventus 0-3 fatemi sapere le vostre quest'ultima nei commenti e noi ci vediamo con un prossimo video ciao